Assessore con delega alla cultura durante la giunta serie ha seguito con il sindaco le operazioni necessarie al restauro della pala del Perugino e gli eventi collaterali. Oggi è intervenuta con una nota in risposta alle dichiarazioni rilasciate al Carlino dall'attuale sindaco Serfilippi e dall'assessore Tarsi in merito alla mostra. Che cosa non la trova d'accordo? Mi dispiace aver letto queste dichiarazioni, non sono solita fare polemiche, anzi auguro il miglior lavoro e operatività a questa giunta perché se lavora bene è un beneficio per tutti coloro che abitano la città, me compresa. Dispiace però vedere che è mancata la capacità di lungimiranza e si è fatto il 2 più 2 sul semplice costo dei biglietti. Anzitutto ricordo che la vendita dei biglietti è andato meglio di quanto preventivato, tanto che la cosa ci ha permesso di prolungare l'apertura. E ci si è completamente dimenticati del grande valore storico, culturale, artistico ed economico che questa mostra ha comportato e ha portato. Perché? Perché il valore economico di una mostra non si basa soltanto sui biglietti ma anche sul valore del grande restauro che ammonta 100.000 euro che l'Opificio delle Pietre Dure ci ha regalato, proprio perché c'è stato un lavoro politico iniziato dal sindaco Massimo Seri quando aveva la delega alla cultura. È stato un grande successo di cui personalmente lo ringrazio e lo dovrebbero ringraziare tutti, anche coloro che governano adesso. Anche perché questo grande risultato ha portato a una mostra importante che è stata presente in Capitale della Cultura di Pesaro e il 7 marzo c'è stato un evento importantissimo con i maggiori esperti di settore, un evento molto partecipato non solo dai cittadini ma anche da addetti ai lavori che arrivavano da tutta Italia e che si sono complimentati e congratulati. Quindi un evento di grande richiamo e di altissimo livello culturale, cosa che porta sempre bene alla città. Un evento e una mostra che poi hanno portato a un dialogo ancora maggiore con l'Opificio delle Pietre Dure è tanto che se viene presa in considerazione seriamente la possibilità tangibile di un secondo restauro, quello dell'annunciazione, è merito di un percorso. Le cose non arrivano a caso e quando si amministra una città bisogna sempre pensare nel medio e nel lungo periodo perché è così che si fa crescere una comunità ed un territorio. E infine vengo alla critica dei 100.000 euro che erano tanti e rotti. Tra gli 80 e i 100.000 euro avevamo preventivato per riposizionare l'opera in loco. Anzitutto noi stavamo aspettando le direttive precise della sovrintendenza che ringraziamo per la grandissima collaborazione che ci ha sempre dimostrato. Un restauro di questo tipo, un'opera del valore inestimabile come quella del Perugino merita di essere riposizionata al meglio e i soldi si possono prendere in conto capitale. Lo stesso capitolo di spesa, ricordiamo, da cui si attinge per la sistemazione di via La Lighieri, 450.000 euro per ricavare 14 parcheggi. Ora, a fronte di questo, 100.000 euro per riposizionare il Perugino su esplicita richiesta della sovrintendenza, penso che ne valgano la pena. Concludo ricordando che abbiamo fatto tantissimi laboratori per bambini, promozione e lavoro con le imprese. Abbiamo cercato di valorizzare al meglio questo grande tesoro e spero che la città lo riconosca e esiga che si continui in questa direzione. Grazie. Grazie. Grazie.